Buonasera a tutti voi, in primo piano ovviamente questa sera le elezioni comunali 2014 che hanno sancito la vittoria del centro-sinistra con Matteo Biffoni, nuovo sindaco di Prato. Un'affermazione netta come dimostrano i 30 punti percentuali di distacco dal principale contendente, il sindaco uscente Roberto Ceni. Allora vediamo insieme i risultati finali con il supporto della grafica, iniziando subito dal comune di Prato, del nuovo centro-destra lo 0,94%. Passiamo adesso a visualizzare sempre con l'ausilio della grafica le liste del federazione della sinistra l'1,16%, poi abbiamo il nuovo centro-destra che ha ottenuto l'1% e tutti gli altri partiti e liste sono rimasti sotto l'1%. E diamo adesso uno sguardo ai risultati degli altri comuni. E allora abbiamo detto trionfo del Partito Democratico e di Matteo Biffoni, la festa per la vittoria del candidato del centro-sinistra è cominciata già poche ore dopo l'inizio dello spogliore. Riviviamo allora insieme la cronaca della giornata, guardate. E ieri sera il nuovo sindaco di Prato ha ricevuto i complimenti direttamente dal premier Matteo Renzi, va bene che ti avevo detto di vincere al primo turno ma così hai esagerato. Queste le parole di Renzi. Vi ricordiamo a proposito che stasera il nuovo sindaco di Prato Matteo Biffoni sarà ospite di Parliamoci Chiaro, il programma di attualità di TV Prato curato e condotto da Giancarlo Gisonni in onda subito dopo il nostro TG. Delusione invece per il sindaco uscente Roberto Cenni che ha accettato con sportività il risponso delle urne. Lascio a Biffoni una città migliore rispetto a quella che ho ereditato cinque anni fa, ha detto Cenni. E vediamo adesso la composizione del nuovo consiglio comunale, 20 steggi alla maggioranza, 12 all'opposizione, tutti i dettagli nel servizio. Il prossimo servizio è dedicato invece agli esclusi, alcuni illustri che non ce l'hanno fatta ad entrare nel prossimo consiglio comunale. Guardate.